Se ti dico Emilio è meglio, VHS Festival Bar, cosa ti viene in mente? Io sono Silvia Rossi e da oggi potete ascoltare Tribù, un podcast voice che racconta l'universo culturale degli anni 90 attraverso le voci di chi quegli anni li ha vissuti al massimo. Proveremo a capire se la generazione Z ha davvero qualcosa da imparare o solo da insegnare, ma soprattutto a rispondere alla grande domanda del decennio. Chi ha ucciso l'uomo ragno? Cerca Tribù nella tua app di podcast preferita. Ci facciamo una bella letturina qui, è un po' che non faccio le letture, adesso voglio ripartire ogni tanto, ogni tanto ci vuole, ogni tanto ci vuole. Tra l'altro questa canzone a me piaceva molto, mi ricordo, insomma sarebbe stata una grande hit per i tempi, e mi fa ridere il fatto che la gente quando faccio le letture dice ma tu prendi per culo questa musica, ma la musica non si prende in giro, bisogna ascoltarla. No ragazzi, io non prendo in giro questa musica, io faccio letture talvolta e quando leggo certi artisti non si percepisce la presa in giro, si percepisce il sentimento, quando ne leggo altri si percepisce la presa in giro, ma perché? Perché è il testo che ti detta l'interpretazione, quindi questo è il problema, non è che io prendi in giro, sì è chiaro, quella è una presa in giro, però viene da sé, il format inizialmente era un format di pura lettura. Comunque in questo brano Jamie Taits spiega il suo concetto di giustizia e critica la situazione politica e sociale italiana, specificando tutto quello che può fare per migliorare la situazione e parlarne appunto in una canzone. Questa è per la gente che muore, gente che vuole viaggiare un po', senza sporcarsi le suole. Per chi prende i calci dentro alle scuole, per chi porta i calcinacci nelle carriole, per chi non ha soldi... Spaccano tutto, spaccano, quando riparte il format della lettura, i condomini spaccano tutto. Per chi non ha soldi e tempo per proporre o pensare al divertimento e pensa solo a evitare un altro esaurimento, mentre il politico di turno se la sta ridendo, questo è tradimento. Per chi vive nelle case senza il pavimento, per gli appartamenti con 27 immigrati dentro, è il fuoco dei poveracci quello che alimento, finché la giustizia non cambia il suo baricentro e vedo tutti i giorni qualche infame sta salendo, mentre qualcun altro ha fame sta scadendo, che il pensiero che siamo tutti uguali qua sta sparendo, ma io non mi arrendo, e quindi accendo la mia la. La 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 la. Grande beat di Lil Wayne sottofondo. Ragazzi, è chiaro che il tono è ironico, però a me mi sembra che questo testo dica cose abbastanza giuste, sensate, ed è chiaro che comunque personaggi come Jamie Tights, quando facevano sta roba, anche un po' populista, perché è chiaro stai dicendo, ti stai muovendo a voce del popolo, eh però funziona. Ecco perché ragazzi ha avuto successo Jamie Tights, perché ok è diventato quello che è diventato, ma qua comunque parlava a voce di chi non era ascoltato. E quindi questo testo, anche se io lo leggo in maniera ironica, interpretando, esasperando, comunque non vuol dire che non sia serio, non vuol dire che lo stia prendendo in giro. Non c'è niente da prendere in giro, perché ha detto cose reali, cose vere, tutto qua. E niente, facciamoci la seconda strofetta. Posso parlare per te, perché parlo per me. Te lo spiegano. E posso farlo perché Siamo uguali fra te. Non c'ho lavoro, non c'ho una casa, non c'ho lo chalet. Giusto gli spicci per le cartine e per il caffè. E intanto fanno fare il capo a chi non era pronto. Pare che tutto il mondo ci rema contro, ma il sole è ancora splende e l'erba è ancora verde. Quando la sbriciolo e la sbuffo in faccia ste merde fra te. Ho solo detto di credere nel progetto. Non dico mica che voglio un mondo perfetto, ma che tutti la sera per dormire ci abbiano un letto e non debbano cercare da mangiare in un cassonetto. Spero nel cambiamento, ma non ve lo prometto. Abbiamo tutta la nostra speranza in un fazzoletto. E se ci giudichi, non mi frega che cazzo hai detto, col cazzo che la smetto. E adesso accendo la mia là. La 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 la. Eh, questo è. Cioè, è a senso, ha tutto senso. Il discorso che ho dei concetti così reinseriti in un momento come il 2020, 2021, e sono un po' passati fuori moda, diciamo. È tutto giusto, però capito, non puoi ricantarli, e quindi giustamente non sai più cosa cantare e fai la musica del merda. Però, a fatti concreti, ai tempi, questo era il rap new school, il racconto di quello che non andava nell'Italia, fatto con stile, fatto con strumentali new school, appunto, Rally Wayne, e comunque, parlando anche appunto di canne, però, cioè, utilizzando la canna come veicolo per evadere da un mondo che non funziona. Cioè, è un po' differente dall'ostentazione sterile di oggi. Comunque, big up for Jimmy Dice, sto facendo un po' di podcast su di lui, perché comunque, insomma, c'è il suo perché, anche perché ste canzoni su spotty non ci sono e voi mi date il click, e il click, e il click, e il click. Ciao!